Questo programma è offerto da Buonasera Daniele e Manueli Benvenuti alla trentunissima puntata di stagione di Sport Up Come sempre più ad iniziare vado a dare la buona serata alla nostra Valentina Violini Buonasera a tutti Volevo ricordare il nostro numero sms whatsapp 333 6094 299 Salutare il curatore della pagina facebook Matteo Zampini Si sta illuminando lui ogni volta che lo saluti va in difficoltà Ma non manda in difficoltà Però apprezziamo Arrivano tanti complimenti anche per te Grazie ancora di essere qui tra noi quest'anno E di averci anche supportato e sopportato Questo va detto Grazie a voi Noi le prendiamo solo milaniste però A dispetto di chi mi affianca qui alla mia sinistra Perché andiamo a presentare gli ospiti di questa serata Li troviamo anche nella seconda parte l'opinionista Renzo Baldisservi Buonasera a tutti E lui è sempre qui tra noi l'opinionista Biancorosso Emanuele Pironi Buonasera a tutti Per la prima volta dei nostri studi andiamo a dare il benvenuto E speriamo che non sia solo la prima volta il giornalista Roberto Daltri Ciao Roberto Ciao buonasera Grazie per avermi invitato A me fa piacere Te l'avevo promesso Siamo qui apposta anche per sentire la tua Per quanto riguarda il Rimini Calcio Ma io direi di partire con ordine Anche con il contributo della regia Andiamo a vedere risultati e classifiche Dopo l'ultimo turno Prego Valentina E adesso sempre con la tua vocina Andiamo a vedere anche la classifica Che rimane invariata per quanto riguarda le più e due della classe Abbiamo sempre in testa il Rimini a 70 punti E segue Limolese a 63 Forlì 54 Fiorenzola 53 Villa Biagio 52 Lentigione 50 San Giovannese 48 Pianese Romagna 147 San Maurese 46 Aquila Montevarchi 43 Sasso Marconi 39 Vigor Carpaneto 38 Tutto Cuoio 36 Sport Interessina 34 Castelveto 31 Mezzolara 30 Correggese 28 Colligiana 27 San Sepolco 26 Queste sono tante E tutte Ad un punto Due di distanza Si incrociano gli occhi Non è facile Non è facile Bisogna fare una solilingua Per quanto riguarda alcune squadre Mannaggia Però non sei la prima Io ti voglio Ti voglio bene Ti voglio bene Allora Valentina Devi sapere che comunque Quello è stato cambiato Proprio nel corso di questa giornata L'orario del calcio d'inizio Tra Limini e Imolese Molti si erano presi addirittura La serata libera Invece si giocherà Alle 15 del pomeriggio Purtroppo Emanuele Giovedì E quindi adesso Entreremo anche un attimo Per affrontare questa tematica Ma prima io direi Andiamo a vedere Quello che è successo Nell'ultimo turno Di campionato Nel dettaglio Anche con un contributo video Con tutti i gol Della giornata Credi davvero Che bastino poche parole Per trasformarti In un romagnolo doc Al ristorante Brusa Rull Da sempre esaltiamo La nostra bella Romagna Nel modo più genuino Prova i nostri piatti A base di pasta fatta in casa E le nostre pizze Cotte nel forno a legno Timbotta è il nostro motto Da sempre Offriamo qualità Ristorante Brusa Rull Via Sant'Arcangio Lese A Poggio Berni Con ampio parcheggio E esterno E isola per bambini Info 0541 688180 O brusarull.com Giornata numero 32 Serie D Girone D Tanti colpi di testa vincenti Che hanno caratterizzato Le partite di questo turno Sono state 20 Le marcature Frutto di 4 vittorie interne 3 esterne 3 pareggi 2 per 0 a 0 Quelli relativi a Fornissa, Maurizio E Trestina, Sansepolcro Iniziamo a vedere I gol di questa giornata Su un campo davvero pessimo E tutto cuoio Si impone nel derby toscano Gol d'applausi Quello di Forgiore Che arriva al minuto 20 Il raddoppio In chiusura di tempo Quando la polvere è alta Davanti al portiere Il pallone Che la spauracchia Buongiorno Buongiorno Mette in buca Vittoria di cuore Dell'Entigioni Che rischia nella ripresa Con Cozzolino Che si lasse Prenotizzare Il rigore Da Borges Nel finale L'ex Rimini Radoi Non tradisce L'appuntamento Con i tre punti Decidendo la sfida Delicata Con i Castelvetro Vince invece Limolesce Il big match di giornata Con i Fiorenzola Apre le danze Dall'angolo Checchi Che di testa Mette in rete L'assiste del compagno Pareggio ospite Sempre di testa In volé A cura Prima che Titone A 62 Archivi La pratica Per il 3 a 1 Finale L'appianese Vince facile Il derby in esterna Sul campo della colligiana Golfo Lanciato in profondità Batte L'estremo Di casa Poi due colpi di testa Tra il 73 E il 91 Mettono in ghiaccio La gara A favore Dei bianconeri Simeoni E Giustarini Non si fanno pregare Gode tre punti Che vale doppio E mette una serie ipoteca Sulla prossima stagione In serie D Del Sasso Marconi E sulla salvezza Quello di Noselli Sul campo Del Carpaneto Mentre continua A sprofondare Il Villabiaggio Passato in vantaggio Con la complicità Della difesa di casa Grazie a Cenerini Si fa prima A guantare sul pali Da Mugelli Che entra in porta Col pallone E a 20 dalla fine Da Papini Autore del gol Del sorpasso Chiudono la giornata Il pareggio Tra Romagna centro E Correggese Padone di casa Avanti di rigore Con lo russo Pareggio Di Serena A 62 Siamo nella ripresa Per la Correggese Emiliani Ora Terzo ultimi In gradatoria In vetrina Mettiamo i gol Dei tre punti di Noselli Che vale doppio Poiché è arrivato Contro un avversario Che lotta Per il medesimo obiettivo Dietro la lavagna Il solito David Portiere di Fiorezzola Altra uscita Farfalla Che costa I gol Dell'Imolese Roberto Iniziamo a sentire Da te Una giornata importantissima Rimane tutto intatto Tutto invariato Tra Rimini E Imolese Appunto Nel big match Che si giocheranno Poi giovedì Per chi Cercherà di accorciare Le distanze Dalla primatista Se è riferimento A Imolese Per chi invece Cercherà Toccando ferro Di archiviare Il campionato Come l'hai vista Questa giornata E se vuoi anche Aggiungere qualche sorpresa Di questo campionato In positivo Anche delle diverse formazioni Che tu segui Per il calcio locale Ma io penso Che le due sorprese Del campionato Che fanno molto piacere A noi romagnoli E a me Che poi ho la possibilità Di seguirle Sono i Romagna Centro E la San Maurese Romagna Centro Perché se uno va a vedere L'età Cioè Da sbalordirsi Giovanissime All'inizio Durante Il corso del campionato Hanno esordito Casa Dei Classe 99 Attaccante Che penso sia A 5 gol Adesso Si 5 gol Campagna Classe 2000 Centrocampista E La San Maurese Anche perché La San Maurese Sta incontrando Una stagione Difficilissima Dal punto di vista Degli infortuni E Ha rinunciato Per tantissimo tempo Bonandi Quindi le due sorprese Direi loro Ieri Mi ha Non sorpreso Però Così Fatto pensare A un risultato Che è quello Del Castelvetro Non tanto perché Ieri ha perso Ma perché ti dico Visto a San Mauro È una delle squadre Che ha impressionato Moltissimo Soprattutto in avanti Se non era Due giocatori Di indiscussa qualità Anche Anche Sì Dietro Non tanto scarsi Ma sai Quei difensori Che ogni tanto Hanno quell'attimo Di concentrazione Un po' Flebile Sì E quindi Sono molto stupito Del fatto che Il Castelvetro Sia così Là dietro Per il resto Sorprese del campionato Io ne vedrei Due Un po' In negativo Che sono Una In lentigione Perché ci aspettavamo Tutti Un grande Campionato Dal lentigione E anche se è presto Per dirlo Un po' Limolese Perché Limolese Con l'organico Che ha Poi ha avuto Alti e bassi Ha avuto Infortune Cambiato subito Allenatore Soprattutto Dato il campionato Che ha perso Proprio all'ultimo Lo scorso anno Sì E poi Anche perché Obiettivamente La Rosa del Limonese Specialmente all'inizio Adesso i Rimini Si è molto rafforzato A dicembre Però specialmente All'inizio La Rosa del Limonese Secondo me Era assolutamente La più forte E beh Molti dei lavori Dicevano proprio Come stai dicendo tu Adesso Infatti Limolese Doveva essere La squadra più forte Mi ricorderò Sempre in estate Una conferenza Di Francesco Scotti Al quale fu chiesto Quale fosse La squadra più forte Del torneo E rispose Senza pensarci su Limolese Caro Renzo Hai sentito Il nostro Roberto La San Maurese Continua ad essere La migliore difesa Di questo campionato Oggi guardavo proprio Lo score Delle squadre Che hanno subito Meno gol Di questo torneo La San Maurese Ovviamente Primatista Con 22 centri Poi Per trovare altre difese Bisogna andare sui 26 29 gol È una squadra Che ti ha sorpreso In positivo? Ma la San Maurese È una città Che mi sorprende Veramente È 3-4 anni Che fa questo campionato Con sforzi Anche economici Bisogna ammirare La società I dirigenti Per quello che fanno Per tenere una squadra Come la San Maurese Un paese Di 10-15 mila abitanti In questa categoria Se vuole veramente Passione E grande intelligenza Anche a livello finanziario Ritornando al campionato Di ieri Io onestamente Vedendo le immagini I gol Ho visto Ho visto Di grandi errori difensivi Io l'ho sempre detto Dall'inizio Che il camionato di quarta serie A mio modesto parere È scarso Anche ieri Non so quanti gol Si è fatti 20-25 20-25 20 gol Tra i quali Si è fatto 9-10 gol 10-11 gol Su colpi di testa Su grande errore Dei portieri Onestamente In promozione Finisce la loro vita La loro avventura Però onestamente C'è la rassicurazione Tutto questo hotel sombrero Ideale per tranquillità Relax e benessere Per vacanze speciali Da condividere con tutta la famiglia Al mare di Riva Azzurra Posto sulla spiaggia Con il mare a chilometro zero L'hotel sombrero È dotato di tre stelle Con piscina riscaldata Idromassaggio Wifi in camera Parcheggio coperto E tante attenzioni Per bambini e amici A quattro zampe E se l'estate passa Noi vi aspettiamo Per trascorrere il capodanno La Pasqua E organizzare comunioni Hotel sombrero Viale Regina Margherita 44 Arriva Azzurra Di Rimini Info Hotelsombrero.com È tempo di Amarcord Budrio È il croce e via Di una stagione Che porterà Big match di giovedì sera In programma neri Contro l'Imo Lise O dentro o fuori I pass per la Serie C E a portata di mano Anche se su questo campo Qualche anno fa I Rimini Prese tre sberle Che servirono Per accantonare Un periodo disastroso E trovare La marcia vincente Verso la promozione Nutrita la rappresentanza ospite Puno ha messo a disposizione Gratuita dalla società Che hanno portato il tifo Delle grandi occasioni Anche se l'inizio È di marca locale Mezzolara che si spinge in avanti Con questo cross di Melli Ma mezzetti di testa Vandallato La risposta del Rimini Non si fa attendere Lighini finalmente titolare Mette al centro Brighi Calibra male La battuta Biancorossi Sostenuti dal proprio Supporters In questo caso Si spingono in avanti Il piattone di Cicarevic Viene respinto Esalta però Petti Che in acrobazia Non trova fortuna La pressione di Minese Prosegue Scambio in velocità Arlotti Simoncelli Traversone di quest'ultimo Battuta del ragazzo Del Pony Express di Coriano Pallone respinto Guglielbelo raccoglie Ma viene murato Anche lui Variola dalla distanza Prova e goda la domenica Spedendo alto Monologo biancorosso Che prosegue Scambio Simoncelli Cicarevic Con l'estremo di casa Che non trattiene una facile presa Rifugiandosi In corner Dalla bandierina Petti sfrutta tale regalo Trovandoli in cornata vincente Per il vantaggio Biancorosso I reprei Ci mostra la prudezza Del difensore Ospite La risposta di Mezzolara E' imminente Ma qui Papaianni Si lascia ipenotizzare Dall'attento e bravo Scotti Nella ripresa I rimini sfrutta l'arma Guglielbe Diagonale di quest'ultimo Bloccato senza problemi Da Malagoli Sul versante opposto Arriva un rivio corto Dalla difesa biancorossa Ma Mezzarini Non riesce a centrare il bersaglio Bersaglio Che invece Viene indovinato Una manciata di minuti più tardi Quando Bagnai Trova la deviazione vincente Di testa Che non lascia scampo All'estremo ospite In mezzolara Trovato in pareggio Prende coraggio E si galvanizza Gavocci chiama la presa a Scotti I rimini subisce L'iniziativa locale Qui Mezzetti Si divora I go del sorpasso Graziando in tutti i sensi La porta riminese Sub entra la classica Legge del calcio Gol mangiato Gol subito Traversore di Righini Per l'incornata di Traini Che firma I 2 a 1 Primo gol per l'ex Sant'Arcangelo Che tra confronti E grigliate Successe nella settimana Più turbolenta dell'anno Ha compreso La lezione La caratteristica Del colpo di testa Continua a condizionare Questa gara E Petti Che non si grava Una doppietta Dei tempi dei giovanissimi Trova il secondo gol Di giornata Mandando in estasi La tifoseria Ospite Malagoli Nel finale Evita il poker A Gugliebre I rimini vince di testa Limolese Giovedì sera E avvisata Se questo rimini Qualcuno pensava Che avesse perso la testa A mezzolara Ha dimostrato Di ritrovare In tre occasioni E se con Limolese Dovesse trovarla Ancora una volta Il campionato Potrebbe davvero Essere archivato E dato il periodo Nell'uovo di Pasqua Sarebbe sorpresa Più gradita Allora Ovviamente Rettifichiamo Quanto detto Nel servizio Che era stato registrato Questa mattina Nel pomeriggio Purtroppo Si è appreso Che la partita Con Limolese Che doveva iniziare Alle 20.30 Giovedì sera Non si giocherà più Alle 20.30 Ma si giocherà Alle ore 15 Del pomeriggio Giusto? Ok Volevo sapere La prima cosa Prima di arrivare A questa decisione Che ha lasciato Un po' Prepressi Non solo Gli avete lavori Ma i tanti Supporters Biancorossi Simpatizzanti Eccetera Un commento Tecnico Di questa partita Inizia da te Emanuele Perché sono stati Quattro gol Tutti arrivati Da quattro colpi Di testa Si sono stati Quattro colpi Di testa E adesso Più che Focalizzare quello Io ho focalizzato La partita A momenti C'è stato Ci sono stati Dei momenti Tutti a pannaggio Del Rimini Però a momenti In cui Rimini Ha subito Abbastanza E' chiaro Che a questo punto Del campionato Più che guardare Alla qualità Se vogliamo Delle vittorie Bisogna guardare Alla vittoria In sé Cioè noi adesso Servono i punti Abbiamo anche attraversato Un momento Particolare Tra l'altro Guardavo prima i risultati La colligiana Ha perso in casa 3 a 1 Mi sembra Con la pianeta 3 a 0 Si pensavo stamattina Mentre Con noi hanno fatto Una partita Sembrava Li avevamo Elevati A squadrone Praticamente Quindi Conta molto Anche la testa Noi abbiamo bisogno Di vincere Questo campionato E penso che ieri Una volta Arrivato l'1 a 1 Da parte del Mezzolara Il Rimini Ha dimostrato Che con la testa C'è E io credo Che a questo punto Vince Chi c'è più Con la testa Chi ha più voglia Perché l'Imolese L'abbiamo detto anche prima Sulla carta Probabilmente È anche più forte Del Rimini Però Se Rimini è davanti Di 7 punti A questo punto Della stagione Evidentemente Ha trovato qualcosa Che dall'altra parte Non c'è Certo E noi dobbiamo Appellarci a quello Noi abbiamo visto Come fare gruppo Come avvicinare I tifosi Tenere tutti quanti Insieme E al tempo stesso Tenere sulla corda Abbia funzionato Il Rimini Ha ritrovato la strada Adesso Non è Ancora Non si è vinto niente Giovedì sarà una partita Non fondamentale Di più Perché giovedì Al di là Conterà il risultato Conterà anche il modo In cui maturerà Il risultato Perché tu puoi Completamente Ammazzare Sportivamente Parlando un avversario Oppure lo puoi Resuscitare Lo puoi rimettere in piedi È tutto in mano nostra Io Credo che Arriviamo a questo punto A quella partita Con la testa giusta Peccato che non ci sarà Il grande pubblico Che ci sarebbe potuto essere Quello sì Allora Rimaniamo su di te Emanuele Poi voglio farla commentare Anche a Roberto E Renzo La partita Perché giustamente C'è da commentare Questo Rimini Che Forse non ha giocato Proprio bene bene Ma come diceva Emanuele Occorre a questo punto Della stagione Cercare di portare a casa Più punti possibili Per rimanere davanti Stefano Ti pregherai di rientrare In studio Di andare proprio su Emanuele Perché vorrei farlo spiegare Anche a lui Con la collaborazione Anche questa sera Di Mario Lugli Che ringraziamo Tra l'altro Ne approfittiamo Anche per salutare Il nostro Renzo Sartini Che sappiamo che ha avuto Un intervento Ma tornerà presto Tra noi Ciao Ciao Renzo Emanuele La decisione Quest'oggi Della questura L'ha stato un pochino Diciamo Sconvolti In supporto C'era qualcuno Che addirittura Si era preso Alla serata libera Per poter seguire Il Rimini Adesso qualcuno Dove prendersi Il pomeriggio libero Dal lavoro Per cercare di essere vicino Presente Perché No questa era una partita Che non potevo mancare Io di solito Concettualmente Non prendo mai ferie Dal lavoro Per andare a vedere le partite Stavolta è la partita Che non posso Assolutamente mancare Quindi sanno già Da più di un mese Io sapendo che Il rischio c'era Avevo proprio prenotato Un giorno di ferie Ma a parte adesso La situazione personale Le speranze di giocare Alle 20 e 30 Erano diventate Quasi realtà Quando sul sito Del Limolese Il presidente Del Limolese Aveva scritto Una bellissima lettera In cui diceva Noi potremmo Non nasconderci dietro Il voler giocare Alle tre In modo da non avere Il grande pubblico intorno Però non vogliamo Togliere lo spettacolo Dell'anno Ai loro tifosi E ai nostri tifosi Quindi accettiamo Di buon grado Di giocare alle 20 e 30 Perché questo È l'essenza del calcio Cioè giocare Per il pubblico Più pubblico possibile Quindi questo aveva persuaso Un pochino tutti Del fatto che Il più fosse arrivato In realtà Quando contattavi Voci della società Ti dicevano Andate con i piedi di piombo Perché manca il parere Tecnico della questura Il parere tecnico Della questura È arrivato oggi È stato un diniego Quindi si gioca Regolarmente Alle ore 15 In un giorno feriale È chiaro che In un giorno feriale C'è chi può uscire C'è chi può liberarsi E c'è chi deve lavorare Quindi poi ci sono Tutti gli impegni Tutti abbiamo una vita Abbastanza composta E non è che I giorni feriali Possono essere messi Al servizio Di quello che è L'inizio di una gara Ci sta Questa è una decisione Che ovviamente Ha scatenato Un piccolo puttiferio Perché A parte che Sai Quando Se tu una cosa La vedi lontana Ok è andata Sai che non c'è Ma quando te la mettono Davanti agli occhi Poi te la portano via Fa arrabbiare un pochino di più Quindi avevi toccato Questa cosa Delle 20 e 30 Poi te l'hanno tolta Quindi la gente Si è un pochino arrabbiata E entrando nel merito Nel merito della decisione È chiaro che Sarebbe stato Probabilmente il match dell'anno Ci sarebbe stato Almeno il doppio delle persone Che ci saranno Alle 3 del pomeriggio Quindi io Dalla parte dei tifosi Sono un tifoso Partecipo Alla partita In qualità di tifoso Mi lamento Assolutamente Di questa cosa La cosa che mi lascia perplesso La cosa che mi fa più male È che Ormai anche noi tifosi Viviamo questa cosa Come Come se fosse L'ennesimo segno di Di cosa Di una situazione Che vede il calcio Il mondo del calcio Un pochino ai margini Di quella che è la società riminese Cioè ogni tanto Il calcio prende uno schiaffone Chi se ne frega Cioè c'è qualcuno Che è malato di calcio C'è qualcuno che ci crede C'è qualcuno che vive di calcio Ma il resto della città Il calcio ce l'ha Quando vince Altrimenti può stare lì E non ce ne frega Quasi niente Questo modo di ragionare Alle volte viene Avallato Anche non volendo Da decisioni come questa Io ovviamente non so Quali sono le motivazioni Quali sono tecnicamente Le situazioni che portano Un questore A decidere per una strada Piuttosto che per un'altra Però so che siamo a Rimini Noi facciamo L'altro giorno Sono stati presentati I cento eventi Che animeranno L'estate riminese Allora siccome Un questore deve gestire L'ordine pubblico Sempre Sia che l'evento Sia di calcio Di hockey Di basket Qualsiasi genere Notte rosa Molo street Ok Certo Allora visto che non ci tiriamo indietro Praticamente da nessuna parte Anche stavolta Io non so se le motivazioni Portavano Logicamente Matematicamente A prendere questa decisione E allora alzo le mani Però almeno una volta La soddisfazione In un anno Di farci vivere una partita In un'ambientazione Un pochettino diversa Se era solo questione Di numeri Di garantire sicurezza Intorno a un qualcosa Che alla fine È sicuro Perché Rimini Molese Non può generare Incidenti Ordine pubblico No ma è quello che mi lascia perpresso Ma a me lascia perpresso Ancora di più Quando vedo Il modo con cui vengono approcciate Determinate situazioni Noi abbiamo visto l'anno scorso Rimini Progresso Con tre camionette di carabinieri In tenuta antisommossa Rimini Corticella Con due camionette di carabinieri In tenuta antisommossa Quali sono Le valutazioni che vengono fatte In situazioni di quel genere lì Cosa vengono a fare Tre camionette di carabinieri Per Rimini Corticella Passano un pomeriggio a prendere il sole Ma non lo dico con spregio O con disprezzo Assolutamente Io ho il massimo rispetto del loro lavoro Sono domande che mi pongo Proprio perché ho rispetto del loro lavoro Chiedi a me Tu mi dici Rimini Corticella Secondo te servono i carabinieri? Ma lascia perdere Manda una volante Un'ambulanza La chiudiamo lì Capisco quello che stai dicendo Ti dico questo Per farti capire un attimo Tu poi hai fatto il gosso Esatto Tu andavi Ti presentavi Ti faccio ridere Sant'Arcangelo Virtus Vincop Verona Venina Considerata una partita Ad alto rischio Io quella volta lì Penso che quella volta lì Credo di aver perso i capelli Proprio In quell'attimo lì E' difficile Se qualcuno mi chiede Perché hai perso i capelli Forse li ho persi lì Quindi puoi capire E poi altra cosa che mi chiedo Scusami Mi viene da farti Oggi ci pensavo anche A questa logica L'anno scorso Il Rimini non fu mandato A giocare a Savignano Contro la Savignanese Sì Quest'anno mi spieghi Come mai è stato Andato a giocare a San Mauro Che sono lì attaccati A tre chilometri Evidentemente Perché se ci pensi bene Tu prima dicevi giusto Qual è il criterio Che usano loro Per indicare che Rimini e Molese E' alto rischio San Mauro In provincia di Rimini O in provincia di Forlizia Sena Quindi quest'ora è lo stesso E allora evidentemente E' quello che ti spiego E' andato bene Cioè quest'anno Andava bene qualcosa Che l'anno scorso Non andava bene Io non entro neanche Più di tanto Nel merito delle motivazioni Perché loro ovviamente Fanno un mestiere Che è anche complicato E immagino che Dal punto di vista Dell'ordine pubblico Il calcio soprattutto Rischia di essere sempre Una buccia di banana Pericolosissima Perché il calcio E' molto umorale Anche situazioni Che apparentemente Sembrano tranquillissime Possono avere il germe Che sbuca Io ricordo Quel Rimini Riccione Maledetto Che era una serata In cui la gente Mangiava la piazza E quella serata Si è conclusa Con una tragedia Io credo che Quel biglietto Da visita lì Spesso Viene messo in mano I questori Per spaventare Voi che arrivate a Rimini Rimini è questo Rimini non è solo questo Io credo che almeno Questo giovedì Ci poteva essere Un venire incontro Nonostante le motivazioni Era una giornata di festa Per la città Secondo me Non era Una giornata di festa Doveva essere un qualcosa Che richiamava Più pubblico possibile Sarà un qualcosa Per noi I soliti noti Purtroppo si Lenzi so che volevi aggiungere qualcosa E poi Fissetto Roberto Queste sono cose Che veramente Mi danno fastidio Perché veramente Io sono d'accordo con lui Se andiamo a vedere La notte rosa Che parte da Bellaria O da Cervia Arrivare a Senigallia Dove ci sono 2-3 milioni di persone E il rischio è altissimo Si divertono Bevono Si ubriacono C'è droga C'è tutto Però non è a rischio Questa è una partita Rimini-Molese Che non è Paragonabile A Napoli-Roma Non è paragonabile Diciamo A Napoli-Roma A Napoli-Roma È un divertimento La gente lavora È uno spettacolo Tutti ci divertiamo E il rischio Secondo il mio modesto parere C'è molto più rischio Nella notte rosa Che in Rimini-Molese Perché lì si divertono Allora anche lì Dovrebbe intervenire Però c'è qualcosa Secondo me Non quadra Veramente Qui hanno fatto Un grandissimo sbaglio Anche perché Onestamente La gente lavora Vanno allo stadio Si divertono E così è veramente Quest'anno sei venuto con me Al Nile A vedere alcuni pomeriggi Le partite Che hai dovuto giocare Non condivido certe cose Però onestamente Loro hanno sempre ragione Però Io andando a vedere Le mie previsioni Secondo me È molto più a rischio Una notte rosa Che Rimini-Molese Ma sono d'accordo Roberto Allora Torniamo un attimo Anche con la collaborazione Del nostro Stefano Papini Sulla partita di ieri E poi ovviamente Ti faccio dire qualcosa Anche a te Su questa decisione Allora Te è piaciuto I Rimini ieri Onestamente Beh adesso Io sinceramente Del Rimini Ho visto Solo queste immagini Quello che Ho potuto notare È che ha martellato Cioè nel senso Era molto spesso Davanti alla porta Del Mezzolara Dentro l'area Del Mezzolara Quindi vuol dire che Ha molto pressato Molto tenuto lì La squadra avversaria Evidentemente Aveva molta voglia Di vincere Anche perché Io lo dicevo ieri A San Mauro Secondo me La partita più importante Dell'anno Non è quella di giovedì Era quella di ieri Perché non vincendo ieri E portandoti più vicino Limolese Potevi avere Non dico paura Ma qualche timore Adesso hai due risultati Su tre Addirittura tre Forse su tre Perché anche Anche se andasse male I tifosi del Rimini Si toccheranno A cominciare Io non sono inquadrato Sarebbero addirittura Ancora quattro punti Di vantaggio Quindi Senti ma una domanda Che ti voglio fare Perché tu l'hai seguito Con il nostro amico Renzo Baldisseri Che mi ricordava Che vi siete conosciuti Quegli anni lì Ma tu Traini L'avresti portato a Rimini Beh sì perché Traini è un attaccante Molto completo Ed è anche molto bravo Io adesso mi rifaccio A parte gli anni di Centro Cancio Mi rifaccio all'anno Della San Maurese È molto bravo Anche nel far giocare la squadra Lui col fisico che ha Quando riceve la palla Si appoggia al difensore La tiene Fa in modo che I compagni possono salire La smista Cioè è uno di quegli attaccanti Che come si dice Fa reparto Da quelle poche apparizioni Che abbiamo avuto modo di vedere Secondo te si è visto I verotraini In maglia bianco rossa? Per quel poco Che ho potuto vedere io Poco Poco Anche perché è stato impiegato Poco Poco Mi trovi d'accordo Infatti io Giusto faccio Una brevissima parentesi Ho trovato Non dico strano Ma Mi ha un po' sorpreso Il fatto che Rimi abbia preso Traini Perché lo vedo Un giocatore Molto simile A Buonaventura Ma io l'ho detto Colpo di testa La difesa Dove si trova Dove è? Non si può Non si può Prendere Quattro gol Sul colpo di testa C'è qualcosa Che è veramente Mizzolare Ha sbagliato Però ieri E Rimini Rimini ne ha approfittato Però se sono d'accordo Con d'altri Probabilmente Ieri è stata una vittoria Importante Chiaro che Onestamente Giovedì Era una grande partita Però E Rimini Ne sarà veramente A testa alta Perché Come dico C'ha tre risultati E va bene La sconfitta Che è l'ultima E il pareggio E la vittoria Perciò Anche gli altri Perché Se vediamo Il Villa Biagio Il Fioranzoro Il Furlino Hanno pareggiato Ci trovano Una a meno 17 L'altra a meno 18 Ormai E Rimini Sono andate Quelle due sono andate Valentina A cura di Riccardo Giannini Andiamo a vedere Le valutazioni del match Attraverso le pagelle Biancorosse Scotti 6 Sempre attento Nelle uscite Nella ripresa Senza colpe sul gol E graziato da Tomasini Sul tiro Del possibile 2-1 Romagnoli 5 e mezzo Nel primo tempo Gioca più da esterno Che da terzino Della difesa 3 Con ovvi limiti Nella costruzione del gioco Nella ripresa Il suo bilancio va in rosso Per un errore Che provoca Una pericolosa azione Degli avversari E che porta Menarini Al tiro dal limite Troppi affanni Non è la prima volta Sostituzione giusta Mazzavillani 6 Fa il compitino Ma non prende rischi Lanciando la sua candidatura A titolare Per la gara Con Limolese Brighi 6 Determinante nel primo tempo Una chiusura su Tomasini Pronto al tapin vincente Soffre come tutta la squadra Per gran parte Della seconda frazione Cola senza voto Entra E subito Si rende protagonista Di un'ottima chiusura Su Tomasini Petti 7 Dal paradiso Gol del vantaggio Rischia di passare all'inferno Quando proprio dopo la sua rete Spalanca la porta del Rimini Al mezzolara Tira un sospiro di sollievo Poi si conferma Bomber di giornata Segnando ancora di testa Su corner di Righini Simoncelli 6 Partita dai due volti Bene nel primo tempo Dove si fa trovare Spesso in profondità Sulla destra In calo nella ripresa Valeriani senza voto Entra nel finale La squadra passa al 3-5-2 Variola 6 e mezzo Ammonito dopo soli 10 minuti Ma il giallo Non condiziona la sua partita Imposta al gioco Con sicurezza E mette il fisico Quando serve Righini 7 e mezzo Il migliore Tre palloni al bacio Due perpetti da corner E uno dalla fascia destra Per Traini Merita il posto da titolare Contro Limolese Gioca con autorità E dirige la manovra Con ottima lettura Delle situazioni di gioco Nella ripresa Mette Arlotti Davanti al portiere Con il sinistro Cicarevic 6 e mezzo Fisicamente non stava benissimo Ma nella seconda parte Del primo tempo Sale in cattedra Sciorinando Grandi aperture Vesi senza voto Entra nel finale E si piazza a destra Nella difesa a 3 Buonaventura 6 Svaria lontano dall'area Giocando per lo più Da rifinitore Complessivamente è sufficiente Traini 6 Non trova la deviazione Su un cross di Gugliebre E fa gridare di disperazione I tifosi Ma poi ecco il tocco Ravvicinato Del 2-1 Arlotti 6 Il solito motorino Corre pressa Ma la Goli Gli nega la soddisfazione Del gol nel primo tempo Cala nella ripresa Anche se un'ottima diagonale Di Pappagiani Gli ha negato il gol A tu per tu Con Malagoli Gugliebre 7-7 Fa vedere i sorsi verdi A Pappagiani Impegna due volte Malagoli E serve un cross rosaterra Traini Che non riesce a sfruttare E a deviare Da pochi passi Se l'esterno numero 77 Avesse un pizzico Di precisione in più Allenatore Righetti 6 Se il primo tempo Fosse rimasto sullo 0-0 Avremmo tolto Romagnoli Inserito Viti Passando al 4-2-3-1 Visto che il mezzolare Attaccava a una sola punta Nella ripresa Gli emiliani passano Al 4-4-2 E allora giusto Tenere la difesa 3 Giusta anche La sostituzione di Romagnoli Il suo rimini Ha però sofferto troppo Un avversario Non trascendentale Con notevoli limiti tecni Ecco qui Notevoli limiti tecni Sicuro che mi ha sorpreso Che giustamente Nel pagiallone di fine anno Anzi Tu Renzo Non c'eri l'ultima puntata Di dicembre Forse Emanuele Vighini Gli avevamo dato 6 e mezzo Per il campionato Nella prima parte Che stava facendo E secondo me Ieri si è visto Un giocatore Finalmente Che ha avuto La possibilità Di giocare Anche al posto Di Cappellupo Perché Cappellupo È infortunato In questo momento Quindi non è disponibile E l'ha fatto alla grande Perché anche i gol Che sono arrivati Da Rimini Primo di Petti E secondo i tre inni Sono stati due assist Del suo Un commento In più anche Per un giocatore Che è nato Nella nostra zona Da parte tua No no Ma io Righini L'ho sempre Tenuto in considerazione Mi ero anche domandato Come mai In determinati periodi Della stagione Era finito ai margini Anche troppo Diciamo ai margini Perché ci sono momenti In cui un reparto È contato E allora fai affidamento Su tutti gli effettivi Momenti in cui invece Un reparto È ampio E allora Normalmente va Al margine Quello un pochino Meno considerato Lui è un giocatore Che secondo me Non merita di essere Il meno considerato Ieri l'ha fatto proprio vedere E si è visto alla grande Anche nel girone d'andata Quando era entrato Quando ha giocato Ha sempre fatto la sua parte Quindi è un giocatore Su cui si deve fare affidamento Poi magari Da qui alla fine Qualcuno sta anche magari Facendo qualche valutazione Già in prospettiva futura E allora ci sono altri tipi Di valutazioni Magari si vede Si guarda di più Un giocatore Che pensi Ti possa venire buono Se magari Dovesse centrare l'obiettivo Ho messo opposta Il punto interrogativo Alla fine Perché dico Righini per la categoria Righini per la serie B Non l'ha mai fatta la serie C Non l'ha mai fatta Da quello che va da memoria Quindi sarebbe la prima volta Per lui Ma sarebbero una scommessa Come diceva Renzo Più volte in questa trasmissione Un po' tutta la rossa Che c'è attualmente A comporre Il Rimini Scotty permettendo Perché Scotty Ha davvero una grande esperienza E tra l'altro È già stato protagonista In maglia bianco-rosso Nell'allora Seconda divisione Perché da quest'anno Si richiama Nuovamente Serie C Bene Noi ci fermiamo Per tre minuti Dando la linea alla pubblicità Poi rientriamo Perché c'è La concitazione Della parte finale Della trasmissione Dedicata A quello che è successo La scorsa settimana Con i pullman Messe a disposizione Da parte della società Da parte del patrono Giorgio Grassi Che ha fatto capire A suo modo Che tipo di calcio Vorrebbe far vedere Anche in Serie C Pubblicità Quando entri In una stanza d'albergo E chiudi la porta Sai che c'è un segreto Un lusso Una fantasia C'è il comfort C'è la rassicurazione Tutto questo Hotel Sombrero Ideale per tranquillità Relax E benessere Per vacanze speciali Da condividere Con tutta la famiglia Al mare di Riva Azzurra Posto sulla spiaggia Con il mare a chilometro zero L'hotel Sombrero È dotato di tre stelle Con piscina riscaldata Idromassaggio Wifi in camera Parcheggio coperto E tante attenzioni Per bambini e amici A quattro zampe E se l'estate passa Noi vi aspettiamo Per trascorrere il Capodanno La Pasqua E organizzare comunioni Hotel Sombrero Viale Regina Margherita 44 Arrivazzura Info hotelsombrero Info hotelsombrero.com Griglia petrolavica E anche cuocipiade elettrici Di varie misure Vi aspetto in azienda Credi davvero che bastino poche parole Per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul Da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna Nel modo più genuino Prova i nostri piatti A base di pasta fatta in casa E le nostre pizze Cotte nel forno a legno Timbotta è il nostro motto Da sempre Offriamo qualità Ristorante Brusarul Via Sant'Arcangielese A Poggio Berni Con ampio parcheggio esterno E isola per bambini Info 0541 68 81 80 O brusarul.com Forno d'asolo Per il tuo ordine Contatta l'agente Andrea Parlani Al 342 004 5098 Per il tuo ordine Al ristorante Pizzeria Al Gufo Ti aspettano a pranzo e a cena I sapori della tradizione italiana Al Gufo si possono assaporare Menù di carne e pesce Ottimi vini E una pizza altamente digeribile Grazie alla lunga lievitazione naturale Con impasto anche al camut E sette cereali Poi La tipica cucina romagnola Con la pasta fatta in casa Mmm che bontà L'accoglienza e l'eleganza del locale Mostra riguardo per tutti i tipi di clientela Ideale per organizzare cene aziendali La cucina e la pizzeria Lavorano anche da sporto Mentre su prenotazione Menù di crudità e per ciliaci Ristorante Al Gufo Via Losanna 44 Miramare di Rimini Di fronte a Aeroporto Fellini Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio Facciamo gli auguri al Rimini Calcio Ma soprattutto Se volete seguire il Rimini Calcio Dovete vedere la tradizione Sport Up Ciao Rimini Calcio In bocca al lupo E allora E andiamo ragazzi E rientriamo come sempre Ringraziamo i nostri sponsor Ringraziamo anche gli amici Della Corse Verde di Nuova Fete Quest'anno veramente Ci hanno supportato Tutte e due le trasmissioni Sia Calcio di Rigore Che Sport Up In maniera particolare Voglio salutare davvero tutti Valentina Ti stai trovando bene con noi Spero di sì questa stagione Tantissimo Eh meno male Mi sto commuovendo anche con te Adesso non fai mi commuovere in diretta Mi dicono tutti Bellissima Quella ragazza Brava e tutto Dove l'hai trovata? E tutto Dove mi hai trovata? È fidanzata Mi raccomando Quindi non toccata Dove dire se Solo perché sono milanista Solo perché Si può dire Si può dire Però soprattutto Di che sei bianco rossa Così almeno Quello era scontato Quello era scontatissimo Senti allora Valentina Prima parlavo appunto Di un'iniziativa importante Lanciata dalla Rimini Calcio La scorsa settimana Quindi a te la parola Il focus di questa settimana È incentrato Sulla tifoseria Infatti sono stati messi Dei pullman Per portare Tutti i tifosi Volenterosi E carichi A vedere La trasferta Andiamo a vedere il servizio Sono Fabri Giancarlo Titolare Dall'Oditi GF Fornitalia Vi vorrei presentare I prodotti Che costruiamo In questa azienda La nostra azienda Costruiamo forni Di tutte le misure Impastatrici Di tutte le misure Spogliatrici Per pasta Di tutte le misure Varie sfogliatrici Per la pasticceria Stendipizza O stendipiada Secondo il vostro uso E Griglie Petralavica E anche Cuocipiade Elettrici Di varie misure Vi aspetto Vi aspetto In azienda Lo sforzo L'avete vista Andiamo in campo Non solo una squadra Importante In primo tempo Ma In panchina Ma anche in tribuna Ci sono giocatori Molto importanti Che potrebbero giocare Titolari In moltissime altre squadre Anche di alta classifica Non tanto Avete visto Da Ambrosini A Cola Avese Insomma Ci sono un sacco Di giocatori Che sono pronti A dare il contributo E lo ha contributo In queste ultime sette partite Quindi noi abbiamo fatto tutto E più di così Non possiamo fare Accendete il motore Lo stadio mobile in partenza Un richiamo irresistibile A tornare in massa A sostenere la squadra del cuore Anche fuori casa Che ha smosso Anche i più sedentari La testa della classifica L'entusiasmo ritrovato Una squadra che finalmente Lota su ogni pallone Come piace a eliminirsi La possibilità di allungare Sulla seconda Nello sconto diretto Pre-Pasquale Da bribidi insomma Il messaggio di Giorgio Grassi È stato recepito In pieno dalla tifoseria Che già nella giornata di martedì Aveva riempito Uno dei pullman Messi a disposizione Gratuita dal club L'esodo biancorosso Inizia a farsi sentire Anche in trasferta E pazienza Se a questo punto Giorgio Grassi Ancora non conosca La cartina geografica Del calcio E quindi questo sarà Per Mezzolara Sarà per Trestina Che non so dov'è Però da qualche parte In Umbria E poi dopo Per Montevar Che più o meno So dov'è Quel che è di certo È che in città Si è tornato a sventolare Con la bandiera Messa troppo a lungo In cantina In soffitta O semplicemente Nel ripostiglio Del dimenticatoio A questo punto Buon viaggio Verso la C Maestro va bene il servizio Dico a lei maestro Tutto bene Lui non gliene frega niente Dove è Trestina Montevarchi Ha sentito quello che ha detto Quindi anche se tu Vai a vedere i campionati In Umbria Nelle Marche Lui non gliene frega niente L'iniziativa lo devo Basta che i limini Vada in Serie C Ma un presidente Deve sapere anche Dove è Trestina Quindi gli facciamo La munizione a Grassi Sì Un presidente come lui Un imprenditore Deve sapere Questi piccoli paesini Perché veramente Io non vorrei Riportare i rimini Anche la prossima Trestina O Villa Biagio La vogliamo portare A Modena A Vicenza No a Modena Meno di no Neanche Vicenza Modena e Vicenza Ne hai preso E due proprio a casa Io ho preso così Per dire Le città Siamo Reggio Emilia Pisa Fisa Livorno Carrara Ecco 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 Trieste Ecco E Rimini Queste sono le loro Piazze Ma non Trestina O Villa Biagio Ecco tutto qua Speriamo che questo Si verifica Ma si verifica Sparando di stare A lunga vita Roberto Tu che sei dall'altra parte Della stampa Quando hai sentito Appunto queste dichiarazioni Ti è piaciuto appunto L'iniziativa lodevole Da parte della società Quella di garantire De Pullman Che già nella giornata Di martedì Tra l'altro Erano stati riempiti Dalla tifoseria Bianco-Rossi Infatti Hai visto anche dal servizio Che c'era quello Spicchio di curva A Budio Dedicato proprio a tutta La tifoseria De Vimini Pieno Anzi stracolmo Mi piace L'iniziativa del Pullman Più che l'iniziativa Del Pullman Mi piace Il fatto che Grassi Almeno io così L'ho capita Ha lanciato un messaggio Come dire Io vi ho dato La squadra forte La panchina forte Bravi Vanno in tribuna Vi metto il Pullman Cioè lui ha detto Io più di così Non posso fare Allora se ci volete Seguire Ci seguite Altrimenti Non avete più alibi Ebbè Cioè ha tolto Ogni possibile alibi Alla città Perché la squadra è forte In testa al campionato Ti do il Pullman E la risposta è stata Giochiamo le 15 Io è qui che volevo arrivare La risposta A quell'appello È stata Frega niente Giochiamo le 15 Beh adesso Emanuele Ma tutto C'è la città La città C'è l'istituzione Io Emanuele La città Diciamo non vengo qui A fare il portavoce Della questura Del questore E con tutto il rispetto Per il questore Non ha la tua passione Perché se avesse La tua passione Quando gli hanno chiesto 20 e 30 Avrebbe detto sì Si metteva la bandiera La sciarpa Però sai Probabilmente il questore Ha una visione Da persona Che si cala Nel suo ruolo Cioè lui pensa Alla sicurezza pubblica E magari Ha detto Perché dobbiamo correre Il rischio Che uno arriva Alle 20 e 30 Dopo aver bevuto Tre birre Che le può aver bevute Anche alle 15 Anzi Alcuni Le hanno già bevute Alle 8 del mattino Sì E probabilmente La sua decisione Fredda Militare È Alle 15 È più facile Controllare Giochiamo alle 15 Sì È l'unica soluzione Che ho pensato Anch'io Che si potesse dare L'unica logica Che c'è Dato che comunque La partita Era stata annunciata Inizialmente alle 20 e 30 Con la società biancorossa Come diceva appunto Emanuele Che temeva appunto Il cambio decisionale Così purtroppo È avvenuto E si è concretizzata Questa scelta Che si giocherà Alle 15 Non alle 20 e 30 Il messaggio Io credo Emanuele Che la società L'abbia dato Intanto alla città Adesso più nessuno Si può tirare indietro Anche perché Io ricordo anche sempre Quello che era stato detto Qualche settimana fa Quando Ilimini Fece tre pareggi consecutivi La società non va bene I giocatori vanno cacciati via Eccetera eccetera Oggi si ritrovano A giocare con Ilimulese Come dissi due settimane fa Da primatista Ancora in classifica Con tre risultati su tre Come ricordava Roberto Che si possono permettere La mia è una provocazione È chiaro Il questore Dovrà decidere Secondo Situazioni concrete Che conosce lui Se ha deciso così Ha ragione lui La mia è una provocazione È chiaro che si passa Da un'immagine In cui ti dice Io vi ho dato tutto Adesso Non potete non seguirci La risposta Di una parte della città È E io ti faccio giocare In chi ci siamo Ma il prossimo anno Vi state vicino Il discorso Dell'amico Grassi È questo Ci andiamo a analizzare Adesso ci arriviamo I pullman I tifosi Dicono ben poco Tanti rimane Il campionato Talla in tasca Ma il discorso Secondo me Di Giorgio Grassi Che è un vero Grande imprenditore Sa fatto Quella che ha fatto Perché È furba Intelligente E vede molto lontano Questo discorso Ho detto anche l'altra volta E lo voglio ripetere Non è la tifiseria E i pullman È per dire In chi ci siamo In chi Mi state vicino C'è qualcuno Che mi aiuta Il discorso di Grazie Era questo E allora aspetta Perché tu Hai anticipato Ma in verità Valentina Sta per lanciarti Un servizio Che farà ragionare Meglio Te come opinionista Qui in studio Ma anche Gli spettatori a casa Prego Siamo forti È lo slogan Del Patron Grassi In questo servizio Andiamo a vedere Le precisazioni E le ambizioni Del team Siamo forti Questa è l'espressione Di autoconvincimento Da parte di Giorgio Grassi In virtù dei risultati Che stanno maturando Sul campo Se in passato Qualcuno aveva pronosticato Il possibile inserimento Di gruppi stranieri Grassi ribadisce Il concetto familiare Che si avvale Delle persone Che al momento Costituiscono La sua società Ribadendo Che da soli La politica Della Serie C A livello di costi È insostenibile E che giungeranno Delle aiuti Presumibilmente Nostrani Aggiungiamo noi Volti a rafforzare L'identità Dell'FC Di minicalcio Il concetto dunque è Siamo forti Ecco posso dire Questa espressione Grassi Inizia a toccare con mano Il concetto di professionalità Una società Che per la prima volta In questi due anni Si è dimostrata Molto matura Nell'affrontare Certe dinamiche Dello spogliatoio Riportando Quella solidarietà Necessaria Per ottenere Quello per cui Si sta lottando Non era successo così Nei saluti a Mastro Nicola Berlini E Muccioli Ma è stata Finalmente una società Nel fare cerchio E risolvere Per la prima volta Le grane Tra le quattro mura Di casa Ma andiamo con ordine Ribadendo il concetto Siamo forti Ecco posso dire Questa espressione La Serie C Prevede costi Sicuramente da soli Non è possibile Il 7 di maggio Noi continueremo Contineremo a fare Questo lavoro Chiaramente cercheremo La maniera Di farlo Al meglio Perché Il professionismo In Italia E Per quello che riguarda La Serie C È insostenibile Voi lo sapete meglio di me No? Ci sono società Che falliscono Falliscono tutti i mesi E noi vogliamo fare Un professionismo Sostenibile Per essere sostenibile Poi dedicheremo Una conferenza stampa Apposta Nei prossimi Quando evidentemente Dal nostro punto di vista Ci saranno le condizioni Perché Da soli è difficile Da soli è difficile Nel suo discorso Grassi ci tira a rimarcare Quanto sia stata importante Anche la presenza Di un ex giocatore Come Ricchiuti All'interno dell'organico Iadriano Ricchiuti Che ci ha sorpreso Per quanto sta dando E credo che alla fine Quando festeggeremo Una delle persone A cui renderemo più merito È lui Infine Non nasconde L'obiettivo finale Consapevole Delle proprie forze E perché noi Veramente Vogliamo addirittura Festeggiare la promozione Anche prima Dell'ultima partita Perché lo possiamo fare E lo faremo Ma quel che importa È il concetto Di questo servizio Siamo forti Posso dire questa espressione E occhio Perché a chi non crede in lui Noi faremo la no La faremo veramente Ve lo giuro Ve lo giuro Noi la faremo Fino in fondo Alla nostra parte Fino in fondo E poi dopo Faremo i conti Come si dice La parte la faranno Fino in fondo Questo servizio Secondo me Che ha ripreso Un po' Tutte le dichiarazioni Con lo slogan Siamo forti Quello lanciato Dalla nostra Valentina Io penso che Dimini Possa avere Roberto Un futuro importante Che sarà In un campionato difficile Come ricordava il presidente Le cifre sono cambiate Però Insomma Penso che possa dire la sua No no Cambia molto Cambia molto In C Soprattutto perché ti devi dare Una certa struttura Come società Insomma Cambia molto Mi sembra Io non lo conosco Non ho mai avuto Neanche occasione Di stringergli la mano Al signor Grassi Mi sembra però Che abbia Un presidente Che ci mette la faccia Ci mette anche altre cose Perché insomma Ci mette la faccia Nel senso che Cioè parla C'è il fatto suo Parla in modo molto diretto Ai tifosi Non mi sembra Che cerca di lisciargli il pelo Ma gli parla in modo diretto Come dire Io vi sto dando tutto Più di così Non so cosa darvi Penso che possa essere Un uomo Che si può Tirare dietro Anche altre persone Poi bisogna vedere Se effettivamente La città risponde Adesso io su questo Non mi sento di poter dire Più di tanto Spero Spero che a Rimini Ci sia Qualche uno Che possa dire Giorgio Ti faccio vedere una cosa simbolica Che è successo Iniziative Pasquali Con l'ovetto Come sono andate Emanuele? Ah le uova Ce n'è qualcuno in giro Per i point E per il resto Noi abbiamo finito tutto Cioè giovedì Giovedì avevamo in mente Di andare Abbiamo stampato di corsa Trenta uova in più Che sono andate esaurite Cioè non riusciamo A tornare allo stadio Prima di Pasqua Con le uova È una cosa banale Le avete regalate O vendute? No no 10 euro Ah 10 euro Quindi è una cosa banale Per farti capire Era quell'uovo Che era lì di fianco Al presidente Infatti Emanuele Danno i discorsi Identificato dai tifosi Biancorossi Come l'uovo di Pasqua Non è più una persona L'uomo dell'uovo di Pasqua No proprio l'uovo di Pasqua L'uovo di Pasqua Biancorossi Anzi è la sorpresa Sì Esatto È la sorpresa Renzo più una mano A portafoglio o al cuore? Quello Quello È chiaro che Ve l'ho sempre detto Ormai questo Non fa più notizie È chiaro che Io mi auguro Che questo Dentro questo bellissimo uovo Ci sia Tanti euro Tanti dirigenti Tanti imprenditori Ma tutti dell'uovo li vuoi trovare? Eh sì Che le diano una mano Ma se Se questo uovo Si rompe E dentro non troviamo Né euro Né imprenditori Secondo me La cioccolata non è buona Non è buona Perde di profumo È probabilmente L'amico Grazie Che io Repito Un grandissimo signore Lo voglio dire Ancora per l'ennesima volta Se non c'era lui Allo stadio c'era un parcheggio Questo è chiaro Lui ha dato vita Però onestamente E Rimini Lo voglio dire sinceramente Siamo stanchi Di fare promozione Eccellenza C Ritornare in D Ritornare in eccellenza Andiamo in Serie C Stiamoci per 5-6 anni Godiamo questa Bella classifica Rischiando anche la B Rimini Vuole questo Rimini vuole questo I 3.000 tifosi Vogliono questo Allora Rimini Si ricordano Quando giocavo Ricciuti Giocavo a Flockeri Giocatori importanti Abbiamo rischiato la B Abbiamo rischiato la A Abbiamo incontrato la Juventus Adesso andiamo a giocare A Villa Biagio A Tresten Che il Presidente Non sa neanche dove è Tresten Scherziamo E Rimini Non è È finito male Voglio onestamente Che Rimini Ritorno E Rimini Negli anni 2000 Dove veramente Allo stadio c'erano 5-6.000 persone Rimini Vogliamoli bene Vuol dire Siamo stanchi Di fare questi Scendere E retrocedere Andiamo giù Ecco onestamente Andiamo in Serie C Facciamo contenti questi tifosi Gli imprenditori Vogliamo bene questo Rimini Perché Tutto sommato Se Rimini C'è Andiamo insomma anche in C C'è anche un introito A livello finanziario Soprattutto Lavoro negli alberghi Lavoro un po' di tutti E allora Onestamente Questo Rimini Portiamo in Serie C E facciamo rimanere Per tanti anni Per quello che merita Bene Renzo Allora io do Innanzitutto Tutti i nostri spettatori La buona Pasqua Perché noi lunedì prossimo Ovviamente Non saremo in onda Ci ritorneremo Lunedì 8 di aprile Quindi mi raccomando A tutti voi Buona Pasqua Stefano Andarmi Dalla regia L'ok Se posso mandare in onda L'ultimo servizio Se non c'è tempo Passa i saluti Ok Allora Proviamo a mandare in onda Il servizio con l'imolese Al limite Rientriamo in studio Per i saluti Servizio Al ristorante Pizzeria Al Gufo Ti aspettano a pranzo E a cena I sapori della tradizione italiana Al Gufo Si possono assaporare Menù di carne e pesce Ottimi vini E una pizza Altamente digeribile Grazie alla lunga lievitazione naturale Con impasto Ancalcamut E sette cereali Poi La tipica cucina romagnola Con la pasta fatta in casa Mmm Che bontà L'accoglienza L'accoglienza e l'eleganza Del locale Mostra riguardo Per tutti i tipi di clientela Ideale per organizzare Cene aziendali La cucina e la pizzeria Lavorano anche da sporto Mentre su prenotazione Menù di crudità E per ciliaci Ristorante Al Gufo Via Lausanna 44 Miramare di Rimini Di fronte a Aeroporto Fellini Nettuno pre-Pasquale a Neri Verrà a far visita L'inseguitrice molese Nei giovedì santo Si potrebbero decidere I destini delle due squadre Dato che Rimini Potrebbe allungare ulteriormente Mentre l'imolese Inseguire il sogno Di venuto un incubo Visto le risorse spese Soprattutto per allestire Una squadra pronta Al salto di categoria Nell'ultimo Vienno Non è un caso Che l'andata E i rosso-bru Si impossero Con una cinquina Che fece male a Rimini Che probabilmente Portò i primi malumori Verso l'allontanamento Di Simone Muccioli Gli emiliani Vantrò due capocannonieri D'eccezione Come Belcastro e Ferretto Appaiati in fatto di marcature La rosa È ricca di elementi Di categoria superiore Oltre due già citati Gente del calibro di Valentini Seso dalla Cip Per vestire questa maglia Tattini, Titone, Sereni Tra l'altro Exa Biancorosso Stanno eseguendo Un buon campionato Considerando l'arrivo In panchina Anche di Massimo Gadda Poco ore dal calcio D'inizio ufficiale Proprio l'andamento Dell'Imolece Lascia qualche perplessità Le sette sconfitte stagioni E qualche pareggio di troppo Hanno evitato Una rincorsa più avvincente Anche se in virtù Dei tre pareggi di Fia dei Rimini I Rosso e Blu Avevano recuperato Sei lunghezze Passando dal più 11 Al più 5 Ecco qui Entriamo in studio Valentina Buona Pasqua Grazie Valentina Grazie a tutti Grazie Renzo Baldisserni Buona Pasqua E Rimini Cerdici Dai Grazie Emanuele Pironi Auguri buona Pasqua a tutti E grazie Roberto D'Altri Auguri Noi ci vediamo lunedì 8 aprile Grazie ancora